Di nuovo buongiorno Friuli e bentornati in nostra compagnia per iniziare una nuova tappa del nostro viaggio dei quartieri che oggi come abbiamo visto prima assieme a Stefano Giovampietro e Francesca Santoro ci porterà a conoscere il quartiere Aurora, il quartiere più a est della città di Udine. Lo faremo assieme anche all'assessore Carlo Giacomello, buongiorno assessore, bentornato nei nostri studi, assieme ovviamente a Stefano Giovampietro che è pronto alla postazione Desc per darci tutti gli aggiornamenti, assieme a Francesca Santoro in collegamento dal quartiere. Assessore, poi non possiamo non toccare in questo nostro approfondimento anche la notizia del giorno, ovvero quanto è accaduto ieri in consiglio comunale con questa maggioranza che è uscita dall'aula, ha fatto venire in meno il numero legale, quindi è slittata l'approvazione del bilancio. Ci ritorneremo, ci ritorneremo più in là nel corso della nostra diretta, non scappiamo, l'abbiamo ancorata allo sgabello, adesso però è il momento di dar spazio al quartiere Aurora. Assessore, è un quartiere che ha una storia molto particolare e un futuro altrettanto particolare perché ricordiamo che su quest'area c'è un progetto che vede diversi milioni di euro in ballo per il recupero dell'ex caserma Osoppo che potrebbe dare un nuovo volto al quartiere? Ma in effetti è l'audine che guardiamo verso il futuro, è finalmente un segnale concreto che parte dall'amministrazione nazionale, cioè il governo Renzi ha voluto dare un segnale importante rivolto alle periferie delle varie città emanando questo bando con un importo consistente per la riqualificazione delle periferie. Noi abbiamo partecipato, abbiamo scelto volutamente la parte di Udine Est, quindi il quartiere Aurora, il Pepest, legandolo anche allo sviluppo della caserma Osoppo per creare quello che mancava, cioè per dare l'elemento che mancava, quella della congiunzione di quartieri nati negli anni 70, tipico, i quartieri satellite come venivano chiamati che avevano una certa indipendenza che però non avevano questi collegamenti con le città, grandi o piccole che se siano. Lo sviluppo urbano nel tempo ha fatto in modo che invece il collegamento tra le città, tra i nuclei cittadini era importante, i collegamenti percorsi erano importanti. Siamo partiti da questa idea, abbiamo visto, abbiamo scelto all'interno invece di sparpagliare in giro per la città questi finanziamenti che sono importanti ricordo che sono 18 milioni sarà l'importo finanziato che è la prima volta dopo tanto tempo, io penso dall'investimento del teatro, della regione che non avevano tanti soldi alla città di Udine, abbiamo scelto volutamente questo perché prendeva questi elementi della storia della città un quartiere satellite, quartiere Aurora, il Peppest, una caserma che è la storia della città, non ricordiamo che la città era arrivata a avere fino a 30-35 mila militari con molte caserme da recuperare, ci concentriamo su questa che funge proprio da collante col centro, ci sarà tutto uno dei percorsi per collegare col centro storico. Poi magari entreremo anche nel dettaglio di questo progetto di cui abbiamo anche già parlato nei mesi scorsi, faremo un po' il punto della situazione ora però siamo pronti per andare, ritornare al quartiere Aurora dove vedo pronta Francesca Santoro, un quartiere Aurora che come dicevamo è un quartiere nato negli anni 60-70 un quartiere dove ci sono tanti palazzi di edilizia residenziale, di edilizia popolare, tanti palazzi dell'Ater un quartiere che però ha anche tante belle storie da raccontare e una di queste è quella che ci sta per raccontare appunto adesso Francesca Santoro assieme ai suoi ospiti, a voi la linea Francesca Buongiorno Angela, io do subito la parola al consigliere comunale delegato che vive qua nel quartiere e gli chiedo che tipo di quartiere è il quartiere Aurora Sì, il quartiere Aurora è stato edificato per lo più negli anni 70 per rispondere alle esigenze abitative che all'epoca aveva la città di Udine è per lo più quindi un quartiere residenziale ma c'è anche una parte polifunzionale e si sviluppa su due assi uno è via Riccardo di Giusto e l'altra è via le divisioni Garibaldi Osoppo in cui vi sono alloggi appunto di edilizia residenziale popolare poi c'è una parte in cui invece vi sono delle villette a schiera, gli edifici scolastici assieme anche ai campi sportivi che rappresentano un altro punto di interesse nel nostro quartiere e il centro polifunzionale dove vi sono i diversi servizi che completano anche poi l'offerta che questo quartiere ha per i propri abitanti Alle nostre spalle c'è il condominio Valle, vedete c'è un pilone che è stato decorato con dei graffiti Con noi c'è Francesco, rappresentante di una delle associazioni che hanno realizzato questi graffiti Come è andata? Beh, questo dipinto è stato prima pensato e poi realizzato nell'ottica di essere integrato nel quartiere In un primo momento abbiamo fatto delle ricerche con le istituzioni prima poi visitando appunto i centri polifunzionali, conoscendo alcune associazioni conoscendo alcuni residenti dell'edificio dove saremmo intervenuti e così Mattia Campodallorto e io abbiamo sviluppato questo progetto in cui in una sorta di astrazione si appaiono queste figure di persone di diverse etnie che più o meno si salutano, creano questi incroci di sguardi che è in sostanza il punto che ci ha colpito di più dalla nostra limitata esperienza sul campo durante la nostra ricerca Una rappresentazione dell'integrazione insomma tra diverse razze, tra diverse persone Questa opera è frutto di un bando regionale? Sì, il bando è un bando regionale vinto dal Comune di Udine del quale l'Associazione Bravi Ragazzi è macros assieme ad altre associazioni tra cui il Museo di Arte Contemporanea, Casa Cavazzini, i vari servizi del Comune e altre associazioni, erano partner Frutto quindi della collaborazione tra diverse... Il progetto si, il progetto era titolato Visioni Urbane questo è il catalogo finale del progetto che racconta un po' tutte le varie fasi Il progetto si è sviluppato prevalentemente nel 2015 attraverso diverse fasi, una fase di residenze artistiche una fase di decorazioni grandi pareti è una fase più legata ai workshop è un'altra fase una mostra finale con tutte le presentazioni delle attività e la presentazione del catalogo Con noi abbiamo anche due dei residenti nel condominio Valle Oscar e la moglie quindi approfitto per chiedere a loro com'è vivere in questo quartiere Allora, buongiorno noi viviamo in questo quartiere da sette anni che siamo qui Allora, Riccardo Di Giuse è un quartiere come tutti gli altri e ha la sua storia anche Allora, l'unico problema qua è che è un quartiere che ha una vecchia fama prima si diceva che è un Bronx, è un quartiere dove si vive male c'è la delinquenza, tutto quanto lì ma io sono qui da sette anni non ho mai notato un episodio che mi può fare paura per dire che veramente mi ritrovo in un quartiere nel Bronx mi trovo bene e l'unica cosa che io posso dire è che è un bellissimo quartiere tenuto bene si vede anche il verde come curato bene ci sono anche i posti, i campi sportivi dove giocano i bambini e l'unica cosa che io posso dire è che bisognava anche aggiungere qualcosa per intrattenere i ragazzi per poter divertire tipo nei weekend perché di solito abbiamo questo punto qua dove c'è il bar, c'è la posta ma non basta magari creare anche un altro posto dove gli anziani possono trovarsi a giocare a carte, a parlare tra di loro una cosa che io posso dire grazie Oscar grazie anche a Francesco che ci ha spiegato la storia del graffito adesso noi insieme a Federico, consigliere comunale delegato ci spostiamo proprio al campo sportivo dove si allenano le giovanili del calcio quindi vedremo uno dei centri di aggregazione di cui abbiamo parlato fino ad adesso grazie Francesca Santoro per questo primo collegamento Assessore, questo primo collegamento ci ha un po' raccontato effettivamente le diverse anime, le diverse sfaccettature di questo quartiere un quartiere popolare che in passato aveva, possiamo dirlo, una brutta nomea un brutto soprannome, il Bronx legato però anche a delle situazioni di disagio dei fatti di cronaca anche molto importanti ti è cambiata un po' adesso la situazione rispetto a 10-20 anni fa? Sessora mia, aiuti lei a collocare temporalmente io penso che quello che diceva il residente corrisponde alla verità cioè l'investimento non solo del comune ma anche della reginanza, della questura, dei carabinieri nella zona è stato forte, importante ricordiamo, non so, anche da parte della Curia lì è stata istituita una parrocchia, è stata fatta una chiesa è stata fatta dai centri della generazione cioè si è creato di fornire il quartiere di quegli strumenti per avere questa sua fruibilità sono risultati che non cambiano dalla sera alla mattina sono risultati che ci vuole tempo ci vuole anche generazioni che cambino indubbiamente è stato un quartiere problematico e abbiamo visto che col tempo le cose sono migliorate lì c'è anche un presidio dei carabinieri c'è una caserma dei carabinieri caso unico all'interno del circuito cittadino io penso che queste progettazioni vanno fatte con continuità guardando avanti ripeto, quando abbiamo pensato come scegliere questa opportunità dell'investimento, come collocarlo c'erano due opportunità o dividerle nei vari quartieri perché c'erano nei vari quartieri determinate problematiche che potevano rispondere alle precise indicazioni date dal bando oppure concentrarsi su una parte abbiamo scelto questa perché era la parte che più si adattava alle idee il bando, non l'ho detto prima l'avevo detto la volta scorsa nasce da, fortemente voluto dall'architetto piano piano quando è stato nominato senatore a vita che da molto tempo si sta dedicando alle periferie e piano ha un'intuizione da tempo da tantissimo tempo che è quella del ramendo il ramendo urbano il ramendo per me è una cosa bellissima perché il ramendo è riparare il ramendo non è fare qualcosa di nuovo è riparare quello che c'è è riparare per congiungere, per unire sono due realtà che fanno parte della storia di Udine casualmente, proprio casualmente sono collegate sono vicine della storia di Udine e della storia delle nostre città i quartieri satellite una scelta degli anni 70 dove venivano messe purtroppo perché si è venuta anche sbagliata gli alloggi popolari prima si faceva gli alloggi popolari poi si faceva le strutture come una volta prima si faceva i condomini o le case poi si faceva le strade e ci troviamo poi in viabilità e poi, lo dicevo prima una caserma cioè una parte della storia della città forte, fortissima forse a livello nazionale Udine è la città che in proporzione ha più questa incidenza non rineghiamo la storia rammendiamo cioè uniamo le cose che c'erano per fare un qualcosa di nuovo lì lo risponde perfettamente abbiamo avuto successo per quello e penso che così sia la direzione giusta questa sia la direzione giusta Stefano c'è ovviamente l'articolo relativo a questa a questa manovra comunque a questa iniziativa del governo con il PEP Est che si trasforma Renzi promette 18 milioni per il recupero dal governo in via libera al finanziamento record per Udina parlava a Onsel all'epoca era qui 18 per 2016 operazione che rilancerà il quartiere e l'economia proprio con la zona di Udine che va da via Cividale tra via Riccardo di Giusto via Ragazzi del 99 che cambierà volto da ex zona militare e popolare il quartiere si appesta a diventare un'area a vocazione residenziale con particolare attenzione al verde e alla sicurezza come abbiamo visto anche e sentito dallo scorso collegamento quella è una bellissima riqualificazione del quartiere poi le parole anche della Serracchiani che ha detto si tratta di un'ottima notizia per le nostre città e per la popolazione che giustamente chiede attenzione non solo ai progetti strategici ma anche cura dell'ambiente in cui vive rioni e quartieri ordinati accessibili e belli le nostre città non sono comparabili con altre in cui la qualità della vita è davvero complicata ma il degrado va sempre contrastato in ogni luogo le periferie almeno nella nostra regione non devono essere i luoghi dimenticati delle città questo proprio nell'ottica del progetto rilanciato da questi finanziamenti del governo Renzi questa è la notizia perfetto e poi assessore nei giorni scorsi questo progetto è stato presentato anche in ambito europeo forse hanno fatto le varie presentazioni hanno presentato i vari i vari progetti perché diciamo verranno finanziati circa un centinaio di di progetti noi siamo circa a metà classifica per capirsi siamo per la precisione al 48esmo post attualmente stiamo guardando ogni giorno com'è la cosa ne hanno già i primi in ambito europeo quello che riferiva i primi i primi di marzo hanno finanziato i primi 24 progetti noi siamo in questa seconda tranche che presumibilmente dovrebbe arrivare a essere finanziata entro l'estate Gentiloni l'ha confermata il finanziamento di Renzi ce la facciamo arriva la dobbiamo farci abbiamo messo tutte le energie e tutte le forze sottolineo che è un progetto allo stato attuale ideato pensato totalmente dalla struttura comunale con le forze della struttura comunale non è banale non è banale si dice che ma il pubblico questo siamo usciti a fare gruppo ha lavorato tutto il mese di agosto nessuno ha fatto ferie ad agosto l'anno scorso e si è arrivati a questo risultato quando dovrebbe arrivare il via libera definitivo? è difficile così facciamo anche una la tempistica se noi abbiamo l'idea è questa se noi riusciamo a avere l'ok entro l'estate l'idea era di partire subito con le presentazioni perché poi i tempi sono questo finanziamento è molto stretto cioè questa tipologia di di bando è in tempistica molto stretta cioè praticamente in tre anni tu devi aver fatto l'intervento i vari i vari step di finanziamento te li danno in base ai vari sal che riesci a portare avanti quindi i tempistiche molto molto strette l'idea è quella che una volta ha avuto l'ok di dare anche di appoggiarsi a degli studi esterni per concentrarsi su alcune tipiche progettazioni noi l'abbiamo suddiviso in 18 micro ma non sono tanto micro progetti all'interno piccoli interventi ma quindi adesso cosa vi attendete cioè qual è il noi teniamo l'ok l'ok che seguirà l'ok che seguirà una convenzione in questa convenzione firmata col governo noi dobbiamo avere già dei progetti esecutivi quindi noi stiamo continuamente lavorando state lavorando in attesa di firmare con il governo questa convenzione perché poi da una volta dall'ok il tempo della firma della convenzione sarà di un mese due ma l'ok da chi deve arrivare? dal governo ok quindi il governo deve dare il via libera e poi firmare la convenzione voi sperate che arrivi entro qualche mese questo che notizie avete? ma stiamo un po' cercando tra i vari onorevoli parlamentari c'è una pressione continua ci dà una mano anche la Seracchiani su questo oggi Gentiloni dovrebbe essere a Monfalcone vediamo se non fermeremo con la giacca li chiederemo di questa cosa qua è quello che stanno puntando un po' tutte le città perché veramente è un'idea nuova innovativa ben specifica cioè gli interventi saranno nelle città proprio con questa finalità e con questo scopo molti ci stanno credendo su questo ci sono dei progetti bellissimi io ho visto Vicenza Torino un bellissimo progetto su questo poi sono uniti anche a quelle delle città metropolitane io penso che possa cambiare il volto del paese senza contare una mano all'economia 18 milioni vuol dire il progetto complessivo è oltre di 2 miliardi e mezzo sicuramente sarebbe uno slancio anche per l'economia cittadina ritorniamo da Francesca che vedo in compagnia di altri due ospiti nella zona dei campi di calcio del quartiere Aurora questo sia un luogo importante anche di aggregazione tra i giovani tra i più piccoli del quartiere a voi la linea esatto Angela adesso parliamo di calcio con due rappresentanti della Fulgor al presidente chiedo come siete organizzati ma noi siamo una società di calcio dove fondamentalmente teniamo il settore giovanile abbiamo 150 bambini più la prima squadra e abbiamo tutte le categorie qui in particolare ci alleniamo con le squadre dei piccoli amici e dei primi calci sono 32 ragazzi e 5 istruttori una fortuna avere un campo così a disposizione certo questo è da qualche mese ce l'hanno dato la possibilità di allenarci qui e sì sicuramente è una fortuna perché gli spazi servono e noi alla Fulgor ne abbiamo veramente poco non riusciamo a gestire tutta questa gente con noi responsabile anche del settore giovanile quanti bambini ragazzi avete ma all'incirca siamo sui 150 è un gruppo in crescita già da 4 anni 4 anni fa abbiamo diciamo ridato vita ricominciato a lavorare in maniera molto attiva sul settore giovanile e quindi siamo ripartiti dai piccoli amici dalla base e siamo arrivati fino ad avere una squadra di giovanissimi che quest'anno sta militando nel girone dei provinciali terza in classifica gioca bene i ragazzi sono contenti anzi ti dirò abbiamo bisogno come diceva Massimo abbiamo bisogno di spazi abbiamo bisogno di allargarci perché tieni conto che nella squadra giovanissimi sono inscritti in 27 non se ne vanno non se ne vogliono andare non si ammalano questa è una cosa molto bella questo ci dà il feedback di un buon lavoro naturalmente e lo spazio ci serve per poter moltiplicare questo lavoro anche con altre persone che prendano incarichi come noi una soddisfazione sicuramente ma avete qualche richiesta da fare al comune ma al comune insomma ci hanno esaudito in tante cose io ho una richiesta magari di più partecipazione degli adulti se ci danno una mano a gestire tutti questi ragazzi perché è sempre più difficile e la gente che fa volontariato ce n'è sempre poca grazie entrambi per questi contributi vi restituisco la linea Aurora Francesca sono tutti i ragazzi del quartiere Aurora oppure arrivano anche da altre zone della città sono tutti i ragazzi del quartiere Aurora o arrivano anche da altri luoghi della città ma ci sono tanti tanti ragazzi del quartiere Aurora ma ce n'è anche di Godia Beivars e San Gotardo tutto insomma nord est sicuramente un vero e proprio punto di riferimento per i ragazzi quindi sì un punto di riferimento speriamo che sia fondamentale per loro perché cerchiamo di insegnare l'educazione prima di tutto e il calcio in seconda battuta sicuramente è importante anche quello ma l'educazione prima di tutto c'è quindi un forte valore educativo? molto forte molto forte perché il territorio su quale stiamo lavorando non è un territorio facile è un territorio dove la famiglia in alcuni casi è molto buona in altri casi molto meno e quindi il nostro lavoro tende a supplire anche a questa mancanza non è una cosa da poco e chiaramente dobbiamo mescolare questo con quello che è l'insegnamento tecnico del calcio stesso ci mancherebbe è un lavoro misto molto molto importante grazie ancora a voi la linea grazie grazie a Francesca Santoro e anche ai rappresentanti della FURGOL per questo collegamento noi adesso ci fermiamo per un attimo di pubblicità perché siamo attorno alle 8.30 ci rivediamo subito dopo rimanete con noi e siamo di nuovo assieme per quest'ultima mezz'oretta del Buongiorno Friuli di oggi che ci sta portando a scoprire uno dei quartieri della città di Udi nel quartiere Aurora e lo facciamo assieme al vice sindaco e assessore all'urbanistica Giacomello assieme alla nostra Francesca Santoro che si trova proprio nel quartiere Aurora e assieme a Stefano Giovampietro Stefano hai qualche aggiornamento qualche spunto qualche curiosità anche da darci un aggiornamento innanzitutto dalla cronaca per quanto riguarda anche luoghi vicini di Venezia c'è stato un blizzo della polizia carabinieri di Misto per sgominare una cellula geadista con tre persone finite in manette tutti i cittadini originari del Kosovo e residenti in Italia con un regolare permesso di soggiorno fermato tra i tre anche un minorenne è stata un'operazione coordinata dalla direzione distrittuale antimafia e antiterrorismo della città lagunare che è stata appunto questa iniziativa unita tra Polizia dello Stato e Corpo dei Carabinieri hanno partecipato anche in Oxegis il personale della direzione centrale della Polizia di Prevenzione unità cinofile dei Carabinieri insomma è stata sgominata questa cellula geadista 12 perquisizioni 10 in centro storico una a Mestre e una a Treviso sono stati appunto provvisoriamente arrestati questi tre protagonisti per quanto riguarda invece notizie che ci riguardano più da vicino avevamo parlato prima della importanza dello sport anche nel quartiere Aurora è una risposta a un articolo appunto di ieri con questi friulani pantofolai uno su quattro fa sport in calo il numero di persone che pratica una disciplina le federazioni sportive iscritte al CONI sono 45 in Friuli Venezia Giulia le società 1719 di cui solo 704 a Udine alle quali si aggiungono 13 enti di promozione sportiva con 2320 società e 1.016 nella provincia friulana quindi c'è un po' un calo dell'attività sportiva sono davvero tantissimi numeri proposti e in quest'articolo quindi oltre all'estetica e al benessere innanzitutto ovviamente quello che è il fattore salute anche aggregazione da parte dei giovani meno giovani e chissà appunto anche con un rilancio delle strutture come sta succedendo nel quartiere Aurora si può arrivare a un aumento di questi numeri Assessore lei fa sport grazie Stefano è tra quell'uno bene bene io pensavo fosse allora qua alziamo la media facciamo due voi sicuramente siete più bravi voi due siete i due i due su tre invece a proposito di sport ci diceva prima a microfoni spenti che è in arrivo un altro intervento importante nel quartiere Aurora sul fronte rugby in questo caso esatto c'è il progetto non direttamente quello delle periferie ma comunque fa riferimento anche a certe componenti del progetto delle periferie è quello di insediare nell'area limitrofa di quella del calcio anche il rugby il rugby giovanile adesso sono fusi le società di rugby che c'erano le due società che c'erano a Udine è partito da un po' di anni un grosso progetto giovanile soprattutto rivolto ai piccoli e piccolissimi e cercavano una sede unica e lì loro faranno un investimento finanziato anche dal CONI dall'associazione rugby nazionale per creare il punto aggregativo lì quindi l'offerta che darà la città sull'area sarà sia del calcio sia del rugby che dal punto di vista aggregativo associativo di proprio di arrivare ai piccoli in particolar modo con delle problematiche sociali al loro interno sono gli sport che forse più possono rispondere in determinate situazioni la componente agonistica la componente di sfogo proprio fisico di aggregazione necessaria aggregativa sì i risultati del calcio li conosciamo tutti quanti del rugby magari è meno conosciuto però i numeri insomma tutto i risultati che riguardano i piccoli piccolissimi sono veramente soddisfacenti lo facciamo li accogliamo con volentieri e diventerebbe proprio a livello Udine e Limitrofi il punto aggregativo per eccellenza importante Arin nella zona nel quartiere Aurora c'è anche un po' di storia da raccontare perché il quartiere di via Riccardo di Giusto ci ricorda appunto l'Alpino di Giusto il primo caduto della grande guerra ed è proprio questo l'argomento che affronteremo in questo collegamento con Francesca Santoro e altri due ospiti a voi la linea Eccoci Angela Commenti Cipatutu siamo davanti alla casa di Riccardo di Giusto con noi il capogruppo del gruppo alpini Udine Est chi era Riccardo di Giusto ricordiamolo Riccardo di Giusto era un alpino nato qua nostro compaesano nato nel 1895 chiamata alla guerra nel 1914 e nel 1915 poi ha partecipato alle prime incursioni nella zona di Drenchia e delle valli del Natisone la sfortuna ha voluto che il 24 maggio fosse lui alle 4 del mattino a essere il primo caduto italiano tra i soldati nel primo conflitto mondiale è stato ricordato anche con un film recentemente è stato ricordato anche con un film un documentario film in cui viene ricostruita tramite degli storici e tramite delle testimonianze quello che sono stati gli ultimi giorni gli ultimi mesi di vita di Riccardo venendo all'attualità che tipo di attività svolge il vostro gruppo quali sono le vostre iniziative principali? sono iniziative che cercano più che altro di unire queste parrocchie che sono sotto la nostra ala di influenza e cerchiamo di ottimizzare e fare delle iniziative che portino appunto a raccogliere fondi come è stato fatto in novembre nei mesi passati per i terremotati del centro Italia e così stiamo continuando per aiutare appunto in iniziative che si fanno nelle chiese e nelle parrocchie limitrofe siete tanti? siamo per ora in 73 più gli aggregati e alla fine in crescita perché c'è stato un po' di ricambio generazionale un po' di spirito nuovo che sta richiamando gli alpini anche i veci a tornare e partecipi sempre parlando di storia questo Federico è il nucleo più vecchio del quartiere sì qua ci sono gli insediamenti che risalgono ben prima dell'attività di costruzione degli anni 70 a cui facevo riferimento prima qua addirittura c'è qualche casa più dietro un ex convento che risale alla fine del 700 quest'area qua è stata poi tutta costruita tra fine 800 e i primi anni del 900 qua ci sono i primi abitanti che poi hanno visto alle loro spalle crescere il quartiere dove eravamo poco fa prima si discuteva del nome del quartiere svegliamo il mistero qual è il reale il nome di questo quartiere? allora il quartiere nasce come PEP Est quindi è Piano Economico di Edilizia Popolare Est e subito essendo come dicevo prima via Riccardo di Giusto l'asse uno degli assi principali gli viene attribuita la nomea di via Riccardo o via Riccardo di Giusto e viene conosciuto così da Udine diceva Oscar prima appunto il residente che però a questo nome si è legata a una cattiva fama negli anni allora negli anni 90 è stato fatto un concorso con cui attribuire un nuovo nome al quartiere questo nome è stato scelto Aurora anche perché chiaramente la posizione del quartiere a est insomma richiama l'alba e quindi questo è il nome con cui poi le iniziative comunali vengono sviluppate negli ultimi anni grazie grazie per queste ulteriori spiegazioni se non avete domande per i miei ospiti vi restituisco la linea una curiosità Francesca l'epigrafe dedicata a Riccardo Giusto che tra l'altro nel nome corretto appunto è Riccardo Giusto non Riccardo di Giusto quando è stata collocata è un'iniziativa recente oppure no La targa quando è stata collocata? La targa è stata collocata nel 1924 a seguito di una raccolta di firme di un'associazione milanese che ha voluto poi dedicarla al primo caduto e quindi collocarla sulla casa natale dell'alpino Riccardo C'è stato un qui pro quo legato al nome di Giusto Giusto Sì per noi resta Riccardo perché alla fin era un ragazzo che poteva essere mio fratello e fermarsi su un fatto così di giusto o giusto alla fine non cambia il fatto che lui è stato purtroppo il primo che ha dato la vita per il nostro paese Grazie a voi La Linea Grazie a Francesca anche per aver puntualizzato appunto assieme ai tuoi ospiti alcuni elementi che riguardano i nomi diciamo così del quartiere Aurora di Via Riccardo eccetera a proposito di nomi e di dialetti di parlate Stefano c'è una curiosità che riguarda Via Riccardo chiamiamola così in epoca qualche tempo fa del termine pedaloso doganato dall'Accademia della Crusca Udine risponde con il gergo di Via Riccardo di Giusto non sono appunto neologismi meritevoli di dignità letteraria diceva appunto all'epoca l'articolo come quello del piccolo Matteo che ha fatto discutere parecchio in questi giorni ma a loro modo segnano un pezzo di storia cittadina proprio un gergo quelle che sono le parlate di alcuni zone il quartiere della città Udine non fa difetto si è sempre dimostrata molto vivace sul fattore linguistico ci mancherebbe altro e ovviamente anche con alcuni termini nati dalla semplice vita di strada sul web esiste una raccolta di quello che si è sempre tramandato con la tradizione orale e ovviamente in mezzo all'elenco ci sono numerosi termini nessuno di questi è meritevole dimensione accademica ma più di qualcuno leggendoli ricorderà alcuni momenti di vita c'è un link ovviamente che ci porta poi a questi termini tra cui proprio c'è il gergo che si usa in questo quartiere proprio del quartiere Aurora e Via Riccardo di Giusto Assessore ci conferma questo io e Stefano siamo udinesi ma esiste davvero questo gergo ma c'è questa componente che riguarda ma è una cosa abbastanza che poi forse dà anche senso di appartenenza diciamo così al quartiere qualcosa di distintivo in tutte le città c'è anche questa suddivisione in quartiere stiamo parlando di una città di 100.000 abitanti se noi andiamo a selezionare noi abbiamo 10 delegati di quartiere ma se volessimo ancora più arriveremo almeno a 15-20 nuclei suddividi però c'è che anche il bello c'è comunque un senso forte di appartenenza un orgoglio di appartenenza del proprio quartiere anche se piccolo perché alla fine parliamo di 1.000 2.000 3.000 abitanti che comunque è la componente di un paese medio della provincia di Udine e nello stesso tempo è l'elemento forte caratterizzare in questo anche dal punto di vista della parlata o meno dà un orgoglio e un appartenenza che poi è bello quando si sviluppa e si unisce assieme agli altri insomma certo Assessore prima abbiamo visto alle nostre spalle un'immagine una foto dall'alto del quartiere della zona del Pepeste che ci mostra bene proprio come sia organizzato questo quartiere quello che vediamo in rosso è la zona residenziale poi ci sono le due caserme la caserma Cavarzerani e la caserma Osoppo e poi vediamo queste due strade la via Cividale e la linea ferroviaria che tagliano in quattro questo quartiere in futuro ci potrebbe essere un qualcosa che unisce tutte queste parti una pista ciclabile dicevo quello esatto l'elemento di congiunzione sarà alla prova dei fatti proprio l'elemento ciclabile ci sarà un intervento importante il piano prevede tutto circa più di 4 km di pista ciclabile anche a livello innovativo quindi a livello di segnalazione di messe sicurezza cioè una pista ciclabile studiata pensata come sono le nuove piste ciclabili appunto una progettazione architettonica particolare dedicata e sarà quello l'elemento che unirà tutta accompagnerà tutta via Cividale e sarà l'elemento che unirà anche le due componenti del quartiere sia quella del quartiere Aurora che all'interno della caserma Osoppo all'interno della caserma Osoppo tenete presente che l'area verde si parlava prima il residente parlava di difficoltà di avere nuclei aggregativi dal punto di vista verde a parte che nel quartiere Aurora c'è molto verde c'è molto verde lì all'interno della caserma Osoppo il pezzo chiamiamo quello della piazza d'armi unito al parco dietro la palazzina comando sarà in futuro il più grande spazio verde all'interno area verde all'interno della città di Udine per capirsi molto più grande di piazza primo maggio a livello di dimensioni la componente ciclabile sarà l'elemento di unione di tutta l'area di tutto il progetto e logicamente gli interventi dal punto di vista viario sarà principalmente l'abbattimento il superamento di tutte le parti semaforiche quindi una fruibilità più più importante dal punto di vista del traffico automobilistico quindi con evitare le sorse dei semafori quindi meno inquinamento meno tutte le questioni che riguardano il fatto che l'elemento di diunione sia ciclabile anche lì è stata una scelta voluta voluta anche perché sicuramente sarà una scelta apprezzata innovativa sarà anche innovativa dal punto di vista architettonico Assessore siamo in chiusura ci avviamo verso la chiusura di questo nostro buongiorno Friuli come promesso riserviamo gli ultimi minuti per affrontare e riprendere un po' la notizia del giorno per quanto riguarda la città di Udine ovvero quanto è accaduto ieri in consiglio comunale si doveva approvare il bilancio invece non c'è stata la seduta del consiglio perché è venuto meno il numero legale la maggioranza temeva tra virgolette di non avere i numeri per approvare il bilancio e quindi ha fatto mancare il numero legale ci spiega il perché di questa scelta mancanza del numero legale è un è uno classico strumento al cui si ricorre in determinate situazioni cioè teniamo presente che la l'approvazione della delibera del bilancio è la delibera più importante di tutto l'anno è quella che regola l'attività di tutto l'anno non ci si può permettere passi falsi su questo anche perché rischi con ripercussioni importanti cioè il rischio è quello di arrivare al commissariamento cioè sono situazioni delicate lo chiamerei senza voler buttare più di oppure volendo buttare acqua sul fuoco cioè un incidente di percorsi insomma c'è stata tra l'altro è dovuta anche al fatto che mancavano dei consiglieri due consiglieri della maggioranza cause e motivi uno era all'estero e uno motivi di salute non poteva essere presente quindi il numero si era ridotto alternativa i quattro componenti dell'alternativa erano dubbiosi cioè non garantivano ancora volevano vedere in corso di trattazione degli argomenti o meno però non uscivano a dare al sindaco direttamente una certezza di un voto favorevole il sindaco giustamente perché non si può andare a rischiare in questa situazione no se c'era fermarsi un attimo ci fermiamo il numero legale è uno strumento ripeto che si usa in determinate situazioni ci fermiamo un secondo facciamo una riflessione di maggioranza in questo e c'è la maggioranza sulla carta rientrando questi due mancanti ci sarebbe comunque però insomma non dobbiamo andare per forza di cose a dividersi su una delibera così importante penso che la scelta del sindaco sia stata una scelta giusta motivata nella giusta maniera non è un dramma si tratta di fare una riflessione e vediamo come andare avanti il bilancio è rinviato quindi tra 15 giorni ma è rinviato adesso dobbiamo un po' sentirvi come sarà la questione ricordo che un bilancio di questo secondo mandato Onsel è finalmente un bilancio perché erano sempre gravato dai problemi legati al patto di stabilità e finalmente un bilancio che comincia a respirare ci sono investimenti importanti dopo tanti 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 anni quindi perdere un'occasione del genere buttare al vento per una questione rispettabilissima cioè il voto delle singole persone sono comunque un voto rappresentativo dei cittadini quindi va tenuto in dovuta considerazione non vedo una cosa drammatica vedo forse un chiaro un necessario chiarimento insomma è chiaro che dovremmo chiederlo ai consiglieri di alternativa ma perché quali sono i motivi che hanno fatto venire meno la certezza di un loro voto positivo il piano delle alienazioni dicono i giornali c'è stata questa questione che riguarda il piano delle alienazioni ma come io ho voluto spiegare tra l'altro è una cosa di sua competenza perché ho la delega al patrimonio il piano delle alienazioni è uno strumento classico che viene allegato per legge al bilancio dove mette in evidenza quali proprietà del comunale potrebbero in futuro potrebbero perché è tutto legato al condizionale venire non solo alienate ma facendo parte di permute o questo noi cosa facciamo solitamente mettiamo in questo piano delle alienazioni un po' tutto quello che ha comportato dei contatti che vuol dire insomma abbiamo fatto i contatti col demanio per quanto riguarda delle permute su delle aree per il PUVAT da costruire con la regione con la procura per fare la città della giustizia cioè tutti con l'unione per vedere i nuovi uffici come dovranno essere dislocati quelli delle uti cioè ci sono tanti elementi che vanno valutati questi potrebbero comportare un riposizionamento di determinate strutture comunali l'abbiamo messo lì perché comunque andava messo sul bilancio però quello che è stato detto l'ho detto io l'ha detto il sindaco lo volevamo ribadire ieri in consiglio è che tutte qualora si verificasse un'alienazione di un bene anche il più piccolo comunque un passaggio in consiglio comunale ci sarebbe stato perché è sempre ma è sempre successo così in questi quattro anni tutte le sono state sciocchezze quelle che abbiamo allineato e sono sempre conseguenze di un passaggio in consiglio comunale sarà sempre così perché deve essere fatto così il piano delle alienazioni a quanto ammonta complessivamente ma non è una questione di valorizzazione se noi valorizziamo poi è difficile dare una valorizzazione certo è difficile dare una valorizzazione ad esempio all'ex frigo certo può valere zero come può valere mille e c'è una valutazione generale che potrebbe girarsi attorno ai 30 milioni ma vuol dire tutto vuol dire niente non è questo che poi tra l'altro i contatti presi riguardavano sempre delle permute soprattutto delle permute soprattutto con il demanio per acquisire noi degli edifici loro e consegnarli al demanio degli altri caserma parlavo casermetta quella del PEPPEST che è di proprietario del comune quella dei carabinieri i carabinieri stanno chiedendo di avere loro direttamente la proprietà questo rientrerebbe in un piano delle allenazioni rientra quello però sono dei passaggi che tecnicamente devi fare insomma dopo se invece è il pretesto per fare un chiarimento più generale forse c'è dietro forse c'è dietro più qualcosa del genere però benvenga un chiarimento lo diamo all'80% questa seconda ipotesi non dopo però il piano delle azioni c'è sempre stato è sempre stato messo questo era più corposo è vero è più corposo ma siamo anche a fine legislatura e quindi anche se voleva lasciare all'amministrazione successiva la possibilità qualora di avere un quadro più complessivo lì non anzi non nascondere niente lì è mettere in evidenza un po' i contatti che sono stati presi basta è già fissato è già fissato un vertice di maggioranza e poi torniamo ad Aurora oggi non le so dire però è probabile certamente sarà breve a breve a breve ci sarà l'incontro dunque ritorniamo allora nel quartiere Aurora per un ultimo collegamento per i saluti finali adesso ci troviamo nel centro polifunzionale se non sbaglio dove c'è anche un bar un altro elemento un altro centro che ci può raccontare un po' com'è il quartiere Aurora quindi a voi la linea Francesca esattamente Angela con noi l'attuale titolare del bar da quanto tempo gestite questo bar? guarda quasi da sei anni sì infatti è cominciato 2011 il primo agosto e come va? diciamo ho cominciato con un po' difficoltà perché essendo io avevo solo 18 anni e io e mia sorella e siamo in due abbiamo cominciato un po' difficoltà però dopo un po' sì siamo anche abituati abbiamo avuto conoscenze di qua e diciamo adesso troviamo bene c'è un buon movimento di gente comunque? guarda non come prima perché prima diciamo soprattutto c'è anche un supermercato e poi da tanti anni si sono spostati e ho trovato diciamo abbastanza cambiamento perché averli qua vicino diciamo c'è più gente perché qua vicino c'è tante gente che vengono qua fanno diciamo la spesa e poi se hanno tempo magari vengono qua a bere un caffè un spritz sì adesso non c'è più quindi ho trovato diciamo abbastanza differenza accanto al bar però c'è un negozio che fa riparazioni di apparecchiature di televisori e anche di giradischi dicevamo diceva che vanno bene gli affari per me sì io non ho notato una grande differenza diciamo il fatto è che i miei clienti vengano da lontano e mi conoscono da più di 40 anni però ovviamente si manca diciamo il giro di gente per la mancanza del supermercato questo è una cosa abbastanza grave specialmente i pliati commercianti in questo centro polifunzionale ci sono anche altri servizi per gli abitanti nel quartiere sì certo beh da un lato abbiamo la banca la posta il tabacchino la casetta dell'acqua invece alle mie spalle abbiamo invece i servizi più diciamo istituzionali per cui da un lato c'è il centro di aggregazione giovanile e poi una sede della Croce Rossa le assistenti sociali e la sede di me che sono il delegato di quartiere dove ricevo il lunedì mattina colgo l'occasione per rispondere alle provocazioni sull'assenza del supermercato in questo centro polifunzionale l'azienda che gestiva il supermercato ha deciso di creare a qualche centinaio di metri una struttura più grossa di vendita e quindi qua ci troviamo in questo momento con degli spazi effettivamente vuoti l'intenzione e i ragionamenti che stiamo facendo anche interni al comune è di una possibile acquisizione in permuta di quegli spazi non sono attualmente nostri di proprietà del comune e chiaramente una volta acquisiti se questa cosa andrà in porto li potremo realizzare o una piccola sala aggregativa per il quartiere perché questo quartiere ancora non ha se non l'auditorium uno spazio dove possono riunirsi le associazioni ma a fianco a questo anche mettere qualche attività commerciale che possa tornare a dare un po' di linfa a questo quartiere a questa zona polifunzionale che è un po' quello che diceva prima Samuele del bar insomma facendo ritornare vicino a casa questi servizi di piccola vendita grazie Federico allora grazie anche agli altri ospiti che ci hanno aiutato a delineare un ritratto di questo quartiere se non avete domande vi restituisco la linea un flash veloce perché siamo in chiusura il signore è da 40 anni che ha questo negozio nel quartiere una domanda per lei no Angela mi raccontava prima che in realtà lui è stato accolto da questo quartiere prima aveva un'altra sede il negozio sì ero in via Gorizia da 40 anni ho avuto l'occasione a parte il fatto che è finito il contratto e ho dovuto uscire dal vecchio negozio ho avuto l'occasione di acquistare questo negozio qui e mi trovo bene anche se una volta questo quartiere avevo una fama un po' particolare però io vedo che sì non è male non è male io sono molto contento i clienti l'hanno seguita? senz'altro tutti mi seguono e ho acquisito anche tanti nuovi sì per fortuna grazie a voi Angela Santoro anche quest'ultimo collegamento grazie anche a Fabio Di Bernardo per l'esterna di oggi per le immagini dal quartiere Aurora Stefano c'è qualche aggiornamento prima di salutarci? l'ultimo aggiornamento come al solito arriva dagli Stati Uniti solita insomma notizia su Trump che addirittura è contro l'import italiano contro alcuni marchi viene nominata la Vespa dell'acqua San Pellegrino ipotesi dazzi del 100% scrive il Wall Street Journal un po' una sorta di ripicca sul caso della carne che arriva dall'America trattata con gli ormoni ormai diciamo è all'ordine del giorno almeno una notizia colorita su Trump dazzi del 100% comincia a diventare abbastanza dura diciamo che fa notizia ecco dai fa notizia Stefano io approfitto di te per aiutarmi a ricordare gli appuntamenti di oggi perché c'è un amichevole oggi importante fra poco a mezzogiorno e mezza per abituare l'udinese proprio a quello che è l'orario della partita tra Torino e Udinese ci sarà l'amichevole contro Campodarsego alle 12.30 live ci sarò io con Gianluca Lena replica alle 22.30 per rivederla se non avete possibilità di rivederla alle 12.30 e poi alle 21.20 come ci ricordavi tu poco fa l'agenda si parla della regione delle riforme all'ultimo miglio con Alberto Perasso questa sera poi alle 21 c'è anche l'appuntamento del giovedì con mercati e finanza allora prima di andare a sentire da Massimo Campazzo di cosa si occuperà questa sera io saluto l'assessore vice sindaco Giacomello grazie per essere stato con noi buona giornata e buon lavoro grazie anche a Stefano grazie a te Angela ci rivediamo nei prossimi giorni buon lavoro anche a te grazie anche a Francesco Snidero Emanuele Sergi in regia tutti voi che ci avete seguito anche oggi per salutarci sentiamo proprio da Massimo Campazzo un'anticipazione sui contenuti della puntata di questa sera di mercati e finanza buongiorno Angela buongiorno a te e a tutti i nostri telespettatori di cosa parleremo questa sera in mercati e finanza allora chi ci ha seguito in questo secondo filone in questa seconda tranche della nostra trasmissione ha capito che più che parlare di finanza parleremo di economia reale con tutte le interconnessioni con le tasche e le possibilità di espansione per il nostro territorio ai fatti andiamo a parlare di che cosa dell'accesso al credito alternativo per le aziende e non solo perché è difficilissimo che in questo momento aziende più o meno grandi abbiano credito alle stesse condizioni con la stessa facilità del passato quindi ci sono altri strumenti normativi molto efficienti e molto efficaci ma siamo sicuri che le nostre aziende le conoscano in base a una statistica sì e no più no che sì quindi andremo a soffermarci su che cosa per esempio su come funziona una start up innovativa quali sono le caratteristiche legislative che deve avere per accedere appunto e essere inserita in questo tipo di novero ma soprattutto parleremo di mini bond detta così ha significato ben poco a poco valore mini obbligazioni sono molto molto interessanti perché alcune aziende piuttosto che farsi finanziare dall'istituto di credito emettono le loro obbligazioni a cedole molto interessanti in che parliamo di 5-6% di cedole quindi anche per risparmiatore diventa affettibile e non solo ci sono delle società come Zenit società italiana con sede a Milano che ha istituito proprio un fondo dedicato ai mini bond va a essere normativizzato va a essere assolutamente scannerizzato il flusso cedolare non solo è la stessa Zenit che compra queste obbligazioni le mette in portafoglio e le tiene fino a scadenza quindi diventa assolutamente interessante per le aziende friulane e non con un'avvertenza particolare nel settore food nel settore cibo vino cibo e quant'altro moltissime hanno scelto questa strada quindi conviene dirittare le orecchie ed essere assolutamente aggiornati ciao 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 ciao